bella a tutti ragazzi sono Mirko bentornati su gameplay channel e su iGriseCity allora ragazzi proseguiamo la nostra serie su iGriseCity così vediamo un attimino come procede il tutto allora nell'ultimo episodio che è stato fatto in live abbiamo spostato praticamente tutte le industrie su questo isolotto per quale motivo per semplicemente evitare un botto di inquinamento diciamo in questa zona qua infatti vi faccio vedere con i filtri la parte diciamo dell'inquinamento che prima era altissima in questa zona centrale perché c'era il porto c'erano tutte le fabbriche adesso vedete che è completamente sparito mentre mentre ovviamente ovviamente abbiamo e stiamo inquinando in maniera mostruosa questo isolotto qua però questo isolotto ci interessa relativamente perché ovviamente non andremo a costruire diciamo delle abitazioni chiaramente ma terremo questa parte appunto come zona produttiva quindi molto molto comoda quest'isola che appunto abbiamo trovato poi abbiamo messo anche qua e queste per forza le dovevo mettere qua le miniere di ferro per il semplice fatto che il ferro si trova solo in questa zona però comunque ci siamo liberati di tutto l'inquinamento che c'era qua e quindi qua possiamo andare avanti ovviamente a costruire abitazioni centri commerciali eccetera 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 però prima di fare questo io volevo intanto mettere l'ufficio di pianificazione che praticamente aumenta la produttività diciamo degli edifici circostanti quindi direi assolutamente di metterne uno qua che mi va a prendere tutta questa zona qua mi vendeva tutto è o la ce l'abbiamo fatta perfetto ok ci siamo riusciti e poi ne metterei magari anche un altro qua perfetta no mi mancano le risorse cavolo cosa richiede a 30 e 10 porca misera richiede un botto vabbè però un po le abbiamo messe quindi non abbiamo non abbiamo grossi problemi va bene poi abbiamo fatto la centrale elettrica con la spazzatura quindi questa è un'ottima cosa dice che gli mancano risorse in teoria la spazzatura adesso ce l'abbiamo forse gliela devono semplicemente portare perché di spazzatura ne abbiamo a quintalate per cui in realtà dobbiamo semplicemente portargliele quindi spero che gliele portino quanto prima perfetto perfetto e poi un'altra zona di produzione cioè che mi aumenta la produttività quindi l'ufficio di pianificazione lo vorrei mettere qua in modo da aumentare la produttività delle nostre miniere di ferro bene 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 allora metterei sempre quello a diciamo il residenziale basso in questa zona qua perfetto mettiamolo qua così riempiamo tutto così almeno dato che c'è abbastanza richiesta di residenziale la soddisfiamo e metterei metterei magari anche del commerciale però lo vorrei mettere alto invece in questa zona qua ok però abbiamo già finito per l'appunto le risorse ok come traffico andiamo abbastanza bene abbiamo upgradeato tutte le varie strade con quelle a quattro corsie quindi diciamo che il traffico è decisamente decisamente diminuito va bene va bene allora mattoni adesso ne abbiamo 51 perfetto quindi dovremmo poter costruire finalmente il nostro ufficio delle imposte così possiamo guadagnare nuove tasse però questo mi va a prendere la zona residenziale quindi lo devo mettere qua in modo che prenda più o meno tutta la zona quindi mettiamo qua l'ufficio delle imposte ok stiamo guadagnando un 21 mila vediamo poi quanto aumenterà con l'ufficio delle imposte adesso non so se posso selezionare io qualcosa o meno non ne ho la più pallida idea abbiamo sbloccato anche degli altri edifici per il tempo libero poi magari ne mettiamo qualcun altro qua siamo sempre a 21 mila e vediamo non appena costruiscono l'edificio vediamo un po ma andiamo avanti veloce il tempo così fanno prima ok siamo sempre a 21 mila dunque entrate più 20 per cento ok quindi comunque qua tutte le zone che ci sono attorno ci dovrebbero dare il 20 per cento in più mi serve anche la fattoria di cotone perché adesso ci serve sbloccare i vestiti perché anche vestiti poi potremmo andarle a vendere grazie al commercio perfetto e gli vado a mettere a questo punto la fabbrica di vestiti che gli potrei mettere direttamente qua che anche vicino al vettore così almeno può portargli più comodamente tutte le varie risorse che gli servono perfetto perfetto allora andiamo avanti a fare intanto un altro po di commerciale ad alta densità magari qua sotto perfetto ok così facciamo tutti i vari uffici benissimo ammazza quante risorse che chiedono però questa è che normalmente uno sbotto di risorse mancherò le verdure quindi dovrò fare secondo me altre due fattorie va bene allora mettiamo di qua la fattoria di frutta così almeno abbiamo due fattorie di frutta e due di verdura perché vedo che questi magnano magnano veramente come non so cosa magnano una quantità di cibo mostruosa allora facciamogli anche una strada intanto a quattro corsie qua così almeno chiudiamo anche questa zona perfetto gliene faccio magari anche un'altra sempre a quattro corsie qua così almeno chiudiamo anche di qua anche qua possiamo mettergli dell'altro residenziale magari o altre cose adesso poi vedremo vedremo un attimino allora il neturbino vedo che sta lavorando al 100% quindi mi sa che servirà assolutamente un altro neturbino e a questo punto nel commercio andiamo a vendere andiamo a vendere anche i vestiti benissimo benissimo e mettiamo che teniamo quattro due vestiti tanto mi interessa vendere a me non mi interessa tenere i vestiti sinceramente anche qua mobili teniamone giusto 5 4 ecco ancora meglio ancora meglio c'è mancanza di pesce ma non è possibile ti ho messo l'ira di dio di pesce non può essere che c'è mancanza di pesce dai su non stressare ti ho messo anche questo allora allora mi richiedono un sacco di commerciale quindi quindi farei così allora qua c'è anche c'è il camion della monnezza che sta andando a raccogliere i rifiuti in giro molto carino anche questo allora quindi mettiamogli a sto punto un bel po di commerciale ad alta densità qua riempiamo tutta questa zona così in teoria in teoria dovrebbe essere sufficiente gli mettiamo un po di commercio di residenziale scusate ad alta densità anche qua così almeno anche qua dovrebbe essere a posto possiamo mettere ancora un po anche qua sotto facciamo fuori un po di legna ma non è un grandissimo problema o perfetto così dovremmo per un po essere a posto sia come residenziale sia come commerciale va bene poi noi abbiamo sbloccato anche qualcos'altro a mi sarebbe piaciuto mettere il parco giochi grandi direi che lo possiamo mettere secondo me secondo me lo possiamo mettere per qua non abbiamo nulla effettivamente quindi potrei metterlo qua dai mettiamoglielo qua almeno rendiamo felici un po di cittadini e ci sta anche tra il commerciale e il residenziale secondo me può essere molto carino l'edificio il tempo libero ma andiamo avanti un po veloce così lo costruisce prima e costruisce anche tutto il resto perfetto e abbiamo e abbiamo raggiunto anche la piccola città tra l'altro abbiamo una nuova ricerca che è available perfetto abbiamo la fattoria di lupola possiamo fare la birreria l'impianto di biogas quindi fantastico abbiamo anche una nuova regione sbloccato ok qua l'edificio per il tempo libero non capisco cosa sia cos'è tipo un paraghiaccio una palestra non lo so che cos'è però gli piace direi che ci sta anche bene qua dai secondo me ci sta anche bene ci sta assolutamente bene così possa adesso abbiamo anche il residenziale quello ad altissima densità che voglio mettere qua e vorrei provare a mettere anche questo ma ci manca il ferro ammazza qua fa proprio in mega condomini fa ma che figata un complesso di appartamenti che il gigantesco cioè questo fa proprio in mega palazzi ma che bello sto edificio bellissimo gli edifici ragazzi mi piacciono un sacco e gli edifici veramente mi piacciono tantissimo abbiamo fatto un mega un mega edificio proprio qua in centro veramente veramente bello vediamo se magari riusciamo a fare no qua in mezzo non me lo fa mettere vediamo se riuscissimo a fare questo ma ci manca e ci manca sempre il ferro ragazzi il ferro è un casino è un casino il ferro però come detto a me sta piacendo molto a me sta piacendo molto ribadisco ribadisco il concetto nel senso che abbiamo anche lo stadio tra l'altro bellissima sta cosa grande pompa d'acqua il vettore nazionale la strada 12 corsie il porto quello grosso la villa del sindaco la miniera di carbone il magazzino locale medio la casa delle macchine allora allora a me piacerebbe fare sicuramente il vettore quello hanno però il nazionale nod alla prossima pietra migliare di sblocco sti edifici si infatti infatti ok non li ho ancora sbloccati ma li sblocco col prossimo aggiornamento quindi potremmo avere finalmente anche la casa del sindaco fantastico casa del sindaco è spettacolare purtroppo il problema dei lingotti in ferro io il ferro non riesco a produrlo in buona quantità allora ferro grezzo ne abbiamo 170 tonnellate quindi ne abbiamo un sacco il problema grosso il problema grosso a questo punto mi sa che si è il carbone abbiamo zero di carbone facciamo veramente fatica a fare il carbone facciamo veramente veramente fatica a parte che lingotti li stiamo utilizzando per gli strumenti aspetta un attimo fermami un secondo questa ok spegniamo un attimo questa perché stiamo facendo fuori un sacco di lingotti per gli strumenti battuti ma strumenti battuti ne abbiamo una marea non possiamo neanche più storarli quindi effettivamente inutile mettiamolo un attimo a dormire sta fabbrica perché se no non c'è senso allora sono curioso di mettere il commerciale quello grosso gliene metto un bel po perché voglio vedere cosa viene fuori mega super mega palazzoni si decisamente uffici enormi uffici veramente enormi bellissimi anche questi qua vorrei fare tutta zona grattacieli fondamentalmente vorrei fare zona grattacieli perché ci sta perché ci sta ok cos'è che non ti piace inquinamento zero è tutto zero service 4% devo mettere anche altri ospedali effettivamente sì dovrei mettere altri ospedali un bel casino è un bel casino dovrei mettere sì l'ospedale proprio l'ospedale quello grosso perché effettivamente non ce l'ho ancora un ospedale o diciamo la clinica quella piccola però per l'ospedale mi servono 40 mattoni e adesso bisognerà bisognerà vedere se riusciamo a farli 40 mattoni spero di sì perché l'ospedale lo potrei mettere qua dai siamo a 38 facciamo anche l'ospedale ragazzi ormai che ci siamo facciamo anche questo facciamo anche questo perfetto dai qua mi dovrebbe prendere quasi tutto quindi lo facciamo e poi ne dovrò fare mi sa un altro anche qua per forza ne dovrò fare un altro anche qua vabbè ma poi anche quello vedremo vedremo di farlo e qua infatti abbiamo abbiamo il nostro ospedale fantastico e questo dovrebbe dare decisamente più felicità decisamente più felicità ok dai stiamo comunque guadagnando bene siamo a un un milione quindi un milione cento insomma 90.000 passa quindi non abbiamo per adesso problemi di soldi stiamo salendo anche con le persone quindi va benissimo con i residenti doveva come detto costruire nuove zone indubbiamente nuove zone sia residenziali che commerciali però per il resto per il resto siamo a posto questi vogliono anche i vestiti quindi vestiti mi sa che ne devo tenere qualcuno in più anch'io niente vestiti ne devo tenere qualcuno in più quindi vendiamone un po meno perché effettivamente anche le risorse tipo i mobili e i vestiti me li utilizzano comunque i cittadini quindi diciamo che ne teniamo sempre almeno una ventina anche di vestiti ok guadagneremo un po meno però soldi per adesso ne abbiamo ma quantomeno facciamo decisamente più felici i nostri concittadini va bene ragazzi allora però io direi che posso fermarmi qui con questo nuovo video dedicato a digeride city abbiamo fatto anche finalmente i nostri mega mega grattacieli iniziamo a avere un po di problemi perché ovviamente adesso si iniziamo a avere un po di problemi di spazzatura abbiamo insomma un po di problemini vari adesso sta salendo la percentuale al 76 per cento ok vogliono il pane ovviamente quindi dovremmo fare il mulino la fattoria di grano e tutto il resto e anche i peperoncini però quelli sinceramente non so dove andarli a fare però per il resto direi che stiamo andando bene vedete sta salendo la felicità adesso è arrivato 81 quindi direi che va bene devo costruire poi altri ospedali dovrò costruire sicuramente anche delle scuole perché questa mi sa che tra l'altro la scuola non non abbiamo fatta manco una non c'è neanche una scuola quindi facciamo l'ospedale mettiamo qua la scuola ne metterei un'altra magari anche qua in modo da prendere un po anche tutta questa zona qui perfetto e poi anche altre ne metteremo qua per forza di cose magari ne metterei anche una qua in centro di scuola così aumentiamo un attimino anche l'istruzione perché per adesso non abbiamo fatto niente ok questa scuola immagino elementare dall'aspetto quantomeno molto belle anche le scuole molto molto belle bellissimi gli edifici mi piacciono veramente veramente un sacco e dopo di che dovremmo poi fare tutto il resto perché comunque ci manca ancora come detto l'ospedale dovrei mettere anche una chiesa di queste qua grosse che effettivamente vabbè una chiesa l'avevo messa in realtà quindi potrei metterne anche una piccolina magari qua mettiamo anche una chiesetta piccolina qua così andiamo a rendere un po più felici anche le persone in queste zone anche se c'è più che altro commerciale però però va bene in teoria dovrebbero apprezzare lo stesso lo sforzo insomma di aver costruito una chiesa anche in questa zona ok e va bene poi andremo avanti ovviamente con tutte le cose che piano piano sbloccheremo quindi ragazzi io vi invito come sempre a lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al mio canale twitch lo trovate sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime live detto questo vi ringrazio di saluto e ci vediamo al prossimo gameplay ciao belli